Allora grazie, mi scuso per qualche problema tecnico che ci ha impedito di iniziare nell'orario, siamo dieci minuti in ritardo ma ringrazio gli ospiti e chi è collegato da fuori. E come sapete Transform Italia rappresenta anche un nodo di una rete europea che è Transform Europa, la fondazione del partito della sinistra europea. E noi nello specifico come Transform Italia ci occupiamo sicuramente delle questioni europee come atto fondativo quasi del nostro agire, come riflessione che vede almeno nella dimensione europea la base su cui costruire iniziativa. E lo abbiamo fatto in questi anni accompagnando anche una discussione politica nazionale che è sempre molto rivolta dentro le mure domestiche piuttosto che avere la capacità di una visione un po' più ampia di quella nazionale. Credo che la complessità del mondo, la complessità delle trasformazioni che viviamo, trasformazioni innanzitutto economiche, politiche, sociali, necessitino di questa capacità di avere un'altra visione. Per questo abbiamo sempre lavorato cercando di coniugare temi, argomenti, politiche, analisi politiche guardando appunto alla complessità e non semplificando i punti di vista. Credo che questo sia importante per noi perché viviamo una fase complicata anche a livello europeo. Ci avviciniamo alle elezioni europee e queste elezioni segneranno insieme a altre cose una svolta anche politica. crediamo regressiva nel nostro continente e l'impegno che abbiamo noi come Fondazione Europea ma anche come Transform Italia è quello invece di poter far rivivere un punto di vista, una proposta politica alternativa a quella delle destre. e qui da noi come in Europa viviamo invece una stagione di divisione e di frammentazione. Credo che questo sia un tema al centro della questione che abbiamo provato a mettere al centro della discussione sia in Italia che in Europa e questo sarà un po' anche un punto di discussione tra di noi. È evidente che per noi c'è un elemento cardine su cui costruire questa idea di unità, questa proposta politica alternativa che si fonda principalmente sulla questione della guerra e della pace. crediamo, credo che sia evidente a tutti che il prima e il dopo segnato dalla guerra in Ucraina in Europa ci costringe a fare i conti con una questione che sembrava fosse pacifica anche nell'affrontare la proposta politica di una sinistra di alternativa che invece ci vede ancora divisi e credo che questo invece sia un elemento cardine su cui ragionare e lo faremo sicuramente durante la giornata e con gli interventi. io credo che quello che stiamo promuovendo in Italia e in Europa cioè una discussione che parta dalla sconfitta di un'idea di supremazia occidentale e provi a ragionare in termini di cooperazione internazionale, di fratellanza e sorrellanza sia l'aspetto principale su cui poter costruire un'alternativa. per questo serve anche la capacità di fare quella che abbiamo definito la battaglia delle idee avere la possibilità di dar voce alle tante persone che anche qui in Italia soprattutto ma in tutta Europa sono convinte che la posizione della militarizzazione la posizione della costruzione delle nuove eserciti non è una soluzione trovare modo che queste persone, questa voce abbia luogo, abbia spazio nella discussione pubblica è uno dei temi su cui ci esercitiamo anche noi. Io mi auguro che ci sia spazio per tutti, sufficiente per poter esporre il vostro contributo vi ricordo anche che oltre alla registrazione dell'Assemblea vi chiederemo anche di continuare questo ragionamento collettivo magari offrendoci contributi, testi da poter pubblicare sul nostro sito che settimanalmente viene aggiornato e quindi rimandare o continuare a proseguire questo percorso insieme perché secondo me Transform come le tante organizzazioni, associazioni che compongono questo arcipelago della sinistra in Italia possa contribuire a far risorgere, a far rinascere un pensiero collettivo e crei le condizioni perché poi questo pensiero possa diventare proposta politica a pieno titolo. Io mi fermo qui e vi ringrazio ancora e do subito la parola a Cornelia Hildebrandt che è co-presidente di Transform Europa è il mio capo, è il mio boss e poi dopo mano a mano Paolo Bertinotti come contributo iniziale per poi dare la voce a tutti noi grazie ancora grazie a tutti